Allora Elisa, anche mamma conterà fino a 15 e andrà a cercare tutti gli oggetti di colore rosso. Pronta? Vai, io inizio a contare. Uno, due, tre. Eccola di ritorno, tre di sì. E lui, facci un po' vedere cosa hai trovato. Wow, sono tantissimi, eh? Brava Elisa! C'è qualcos'altro dentro? Sì, ecco qua. Finiti? Bene, allora facciamo quest'altra cosa e le dividiamo anche noi per tre, ok? Facciamo due gruppi da tre. Ti va? Sì. Ok, gruppi da tre allora. Andiamo. Uno, due, sì. E tre. Bene. Poi facciamo altri gruppi? Uno, due, tre. Bene. Vuoi fare qualcos'altro? Sì, vai. Uno, due, tre, quattro. Questo rimane a parte, vero? Ce n'è uno in più. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Vogliamo dividerli per duri e morbidi. Sì, ecco qua. Duro? Duro? Duro, duro. Poi quali sono gli altri oggetti duri? Uno, due, tre. Bene. Sì. Quindi è duro quello? Ma è morbido. Allora lo metti da un'altra parte? Uno. Morbidi sono questi? Uno. Sì. Due. E tre. Brava, Elisa. Allora, misi bimbi, avete visto? Vi volete divertire anche voi insieme alle vostre maglie? Così, come facciamo a scuola? Va bene? Un abbraccio a tutti voi. Ciao.